Musica Bentornati con le consuete previsioni a cure di Meteo One. L'alta pressione è in rinforzo con progressiva stabilizzazione del tempo, che diverrà più soleggiato, da evidenziare soltanto una maggiore parziale nuvolosità e qualche addensamento su Alpi, al nord-est, sul Medio Adriatico e in Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Temperature in progressivo e sensibile aumento da oggi e soprattutto nei prossimi giorni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 29 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con addensamenti più probabili lungo le coste del Barese e del Brindisino. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio sulla Puglia, con cieli limpidi in serata. In Basilicata bel tempo, salvo locali allumulamenti sui settori terrenici, ma anche qui ampi rasserenamenti dal pomeriggio sera. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionari invece le minime. Venti sostenuti dai quadranti nord-occidentali in attenuazione dalla Sira, mari da mossi a molto mossi, specie allo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gaetano Pazienza, che dalle creste calcaree della Murgia Barese, immortala la piana verdeggiante nei pressi di Gravina. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovra in pressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.